Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sempre in direzione Firenze, un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 35 tra Montecatini Terme e Pistoia. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici. Sul raccordo Siena-Firenze e code tra Impruneta Grevenchianti e Firenze Scandici in direzione Firenze e rallentamenti per lavori tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in Val di Pesa in direzione Siena. Per lavori sulla viabilità ordinaria è chiusa l'uscita di Pogibonsi Sud provenendo da Siena. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!